Dopo l'annuncio della presenza di Enrico Brignano con lo spettacolo Un'ora sola Vivo Rei il 10 settembre e di Nicolo Fabi il 16, il comitato feste presieduto da Maurizio Trevisan ha svelato il calendario completo per le feste di settembre a Lanciano. Il 14 si esibirà Max Pezzali, il 15 saliranno sul palco due volti noti di amici Gaia e H7. Teatro di concerti e spettacoli sarà il Parco Villa delle Rose che sarà inaugurato proprio con l'esilarante show di Brignano. I biglietti sono già in vendita, ha detto Trevisan, gli ingressi a tutti gli eventi saranno contingentati a causa della pandemia. Si sarà la cosa a cui dovremmo stare più accorti, più attenti perché altrimenti non si potrebbero svolgere eventi di questo tipo, quindi dovremmo stare molto attenti ma penso che l'anno scorso pure siamo stati bravi e le cose sono svolte nella maniera più regolare possibile e soprattutto sicura. A forte rischio tutti gli altri appuntamenti della tradizione settembrina, dal Dono a Sant'Egidio, dalle giostre ai fuochi d'artificio. Tutto dipenderà dall'andamento della pandemia e dalle autorizzazioni che saranno concesse. Eppure in altre città come ad esempio l'Aquila, lo scorso agosto si è comunque svolta la perdonanza celestiniana, a Vasto si è svolta la festa della Campanella e a Francavilla i fuochi d'artificio. Dovremmo per forza di di cose aspettare l'input della questura perché sarà lei a decidere se certe manifestazioni potranno essere svolte dato l'ingente afflusso di pubblico di cui loro sono a conoscenza. Quindi noi siamo pronti a fare tutto. Poi quello che ci permetteranno di fare noi saremo pronti e quindi speriamo di poter fare il più possibile insomma. Ci muoveremo appunto così in collaborazione con l'amministrazione e ripeto con la questura cercheremo il modo anche magari prendendo spunto da ciò che è avvenuto all'Aquila e cercheremo di fare lo stesso. Però ripeto noi siamo pronti e studieremo il modo affinché si possa fare tutto o quantomeno il possibile. Quindi non è da escludere.